ben ritrovati di nuovo su review you oggi vi vado a mostrare questo prodotto davvero interessante è una guillotin o una taglierina chiamatela un po come volete e della marca del ci sono diversi modelli quindi vi lascio il link di questo modello nello specifico a livello di qualità prezzo e secondo me il migliore io l'ho acquistata proprio per tagliare diversi fogli a casa con precisione senza impazzire con le forbici e ve la vado a mostrare innanzitutto qua si vede che avete due anni di garanzia e il formato è 320 mm massimo sul retro arriva proprio con questo in questo cartone ci sono un po le varie descrizioni allora innanzitutto in diverse lingue e vi dice ad esempio nella lingua lingua inglese che c'è una vera precisione di taglio e niente può essere utile a livello professionale a livello di scuola eccetera la tavola cioè la parte qua è in metallo quindi resistente ve lo assicuro adesso andremo a vederla e c'è poi la lama scusate che vi permette di tagliare fogli diciamo anche parti in plastica quindi sto pensando non so ad esempio se plastificate è veramente ideale io l'ho usata anche per questo andiamo ad aprirla io devo dire che sono davvero soddisfatto perché in termini di qualità prezzo è un prodotto davvero ottimo andate prima ad aprire di qua perché anche per aprirla non è evidente poi alzate queste parti e alla fine tra l'altro sto operando con una mano quindi perdonatemi e tra l'altro c'è anche il dito infortunato ok siamo riusciti io la tengo sempre la confezione perché è ottima da riporre via andiamo a tirare fuori la taglierina ed eccola qua e la sto posizionando adesso su un comodino di legno quindi è veramente compatta per le misure trovate tutto nel link in descrizione di amazon qui sotto che vi lascio allora è comoda perché avete la misura già impressa sulla tavola stessa di metallo quindi vi aiuta c'è anche la dimensione delle varie dei vari formati se avete bisogno di orientarvi anche le linee dei gradi e avete poi questa parte in plastica che vi serve per mettere all'interno i fogli e schiacciare con le dita per tenere i fogli fermi come vedete c'è questa parte in l'impugnatura è veramente comoda da tenere e poi abbiamo la lama questa lama che è davvero tagliente c'è una particolarità di queste taglierine è che spesso e volentieri lama non tagli bene in questo caso è davvero affilata e vi devo dire che fa un lavoro di precisione grandissimo direi di andare a tagliare un foglio vediamo il nostro foglio lo mettiamo qua dentro alziamo e una volta che non so adesso facciamo finta che vogliamo tagliare questo bordo ok lo infiliamo e ci orientiamo con la fine della parte di plastica quindi se questa è la parte di plastica questa qua è il finale della plastica noi dovremmo orientarci in questo modo che hai non so se rende tanto è una volta che abbiamo fatto questa operazione andiamo a tagliare come vedete taglia veramente in una maniera precisissima non c'è neanche bisogno di tenere qua scende da sola e guardate spettacolare ha tagliato veramente in modo preciso potete mettere ovviamente più fogli adesso non so quanti fogli c'è scritto tutto nella descrizione del prodotto ma fidatevi che potete anche mettere dei fogli plastificati di taglia bellissimo questo è il prodotto anche ballo stabile e pesante non l'assicuro quindi stabilità questo è il retro se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela ci vediamo alla prossima review